Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi andiamo di video reaction. Oggi ho preso in esame un video relativo ai regali ricevuti dalla nostra Chiara D'Alessandro in occasione del suo recente, recentissimo compleanno. Bene, per chi volesse vedere il video in forma integrale, vi basta recarvi sul suo canale ufficiale Chiara D'Alessandro e cercare sotto questo titolo i miei regali di compleanno. Lo troverete con estrema facilità in quanto è un video che è stato caricato 10 marzo 2020, appunto ieri. Bene, il video presenta 374 like contro 666 dislike, che non è un invito a una messa satanica, ma il numero di utenti che mal hanno gradito questi regali ricevuti. Ma andiamo a vedere subito il video e vediamo di cosa si tratta. Bene, protagonista assoluto del video, ovviamente la nostra Chiara D'Alessandro, che per l'occasione non sfoggia il suo solito pigiamino, ma è in una misa alquanto mistica. Capelli raccolti, una maglietta super accollata, total white, che presenta nella trama del satinato e del lucido, che si va a intersecare in righe verticali, che sanno tutti benissimo che sfinano, ma non in questa occasione, e presenta sulle maniche dei volanti decorativi tono su tono. Questa maglietta fa parte di un ordine, un piccolo spoiler, fa parte di un ordine fatto sul sito online Bonprix, che lei comunque caricherà poi prossimamente in un video dedicato solo a questo ordine. Ha fatto un piccolo spoiler, giusto per voi, siatene felici. Bene, detto ciò, partiamo col primo regalo, che è un paio di scarpe da ginnastica a marchio Nike, fattole dal suo neosposino, che pare abbia lo stesso paio di scarpe identiche, ovviamente, del suo numero 83. Per quanto riguarda queste scarpe, sono un classico paio di scarpe da ginnastica, total black, non hanno grossi dettagli relativi da essere rilevanti, da essere descritti, sono tutte nere, praticamente, e sulla parte sottostante della scarpa, la suola, presenta il classico marchio in grande, in bianco, a contrasto della Nike, praticamente. Lei ci tiene a precisare che con queste scarpe, lei che già è top, ora sarà ancora più top, perché lei è una donna alfa e con queste scarpe si sentirà ancora più al top. Vabbè, passiamo oltre, glissiamo su questa affermazione e passiamo al secondo regalo. Il secondo regalo è custodito in un piccolo sacchetto verde, che immagino sia un qualcosa del relativo a una gioielleria, in quanto è tanto piccolo, non ci sarebbe niente di più, che un anello, un braccialetto, una cosa del genere. Ora lei ci mette un po' tra una spiegazione, le emozioni che ha provato e tutto, io vado avanti un po' col video, e finalmente siamo giunti alla presentazione del coperchio della scatolina, sembra sia un anello. Bene, ci stiamo un po' sulla descrizione di questo coperchio della scatolina, dei sentimenti che ha provato quando ha aperto la scatolina. Va bene, finalmente siamo al gioiello vero e proprio, che è un anello che presenta al centro una pietra di colore bianco, e a forma di cuore, tempestata tutto intorno da micro zirconi, lei li definisce zirconi. Ora, oggettivamente, se era un brillante, una cosa del genere sarebbe costata 20-30 mila euro, poi a seconda della purezza della pietra, eccetera, eccetera, eccetera. Ora non sto qui a farvi due palle, andiamo avanti. Ah, ecco, sembra che questo sia l'anello disegnato, ma non ci crederete mai, da Davide. Davide, colore, disegna, è un artista questo ragazzo, si farà, si farà. Ora, a guardare lo stanello così bene, mi ricorda molto la collana indossata da lei quando si è sposata al suo matrimonio, che era un'imitazione del cuore dell'oceano, quel gioiello che indossava Rose, la protagonista del film Titanic, un qualcosa di veramente osceno e sconvolgente. Ecco, questo è identico, solo che è tutto bianco, però stavolta non è una chingaglieria, ma è in oro bianco. Lei dice, ora non lo so oggettivamente, perché occhio così non si può dire, però crediamole sulla parola. Però comunque su via, non è nulla di particolare, non è questo gran designer, questo anello, però giustamente è un regalino fatto col cuore dal suo Davide e a noi ci piace. Ora, c'è un piccolo siparietto da parte di Chiara, relativo a Stanello, perché dice, non vedevo l'ora di indossarlo, ora finalmente lo posso mettere, ma ce l'aveva lì, le bastava aprire la scatola, infilarcelo, il dito dentro. Però vabbè, non siamo tutti molto pratici, vabbè, va bene anche così. Ora, prossimo pacchettino della carrellata, addirittura è ancora incartato e dalla confezione, non vorrei sbagliare, però credo sia un qualcosa della Thun. Sì, effettivamente, ora lo leggo anche sul nastro e c'era comunque la farfallina della Thun, che era rivelatrice, che andava a guarnire il fiocco che decora questo pacco. Ora lei lo apre in diretta qui per noi e stiamo tutti in mistico e religioso silenzio nell'attesa che lei apre sto pacco. Pensate come siamo messi. Bene, siccome lei ha un po' di difficoltà nell'aprire questo grosso pacco, giustamente interviene da fuoricampo il Davide, che è l'uomo che non deve chiedere mai, e risolve, come sempre, la situazione. Anche in questo caso, lui sa come si strappa via la carta da un pacco regalo. Meno male che c'è Davide. No, ragazzi, niente, torniamo indietro. Passo indietro, lui non era capace, praticamente, poi ha risolto la situazione, è chiara, come sempre. Siamo riusciti finalmente a levar via la carta e siamo al pacco vero e proprio. Ecco, finalmente il pacco è aperto, ma c'è un tipo un milione di carta a protezione di questo oggetto che ancora non si riesce a capire di cosa si tratta. Lei dice una cosa molto pesante, a me sembra una sorta di piatto gigante, ma aspettiamo a vedere bene di cosa si tratta. Allora, ci sono degli aiutini. È natalizio, è un centrotavola, ma è un qualcosa di... Un qualcosa, ma natalizio, ma adesso siamo a marzo, secondo me l'ha preso in sconto, la furbacchiona. Bene, finalmente siamo riusciti a tirar fuori questo oggetto dalla scatola, dalla protezione, dalle varie cartacce che lo circondavano. E' un piatto gigante, centrotavola, che ovviamente sì, è natalizio, perché presenta al centro un angioletto che regge su una stella natalizia e una pallina di albero di Natale, delle campanelle, poi ci sono gli agrifogli, gli agrifogli, agrifogli o agrifogli? Sto a fare una figuraccia, lo so, fiocchettini rossi, campanelle, quasi mi viene voglia del Natale un'altra volta. Ora, mentre lei sta a descrivere sto piatto, che nelle varie colorazioni che c'era, comunque a disposizione, non solo così, c'era col fiocco rosso, col fiocco beige, col fiocco color d'oro, tante varianti c'è, tre. Nel frattempo c'è Davide che c'ha una tosse che si sta a strozzare, lei gli butta un occhio ad accia come per gli esmetila, sto a descrivere il piatto dell'attun. Niente, il piatto va avanti per un bel po', diciamo che prende gran parte del video, acquisti, e poi lei fa l'annuncio che praticamente la carrellata dei regali si conclude qui. E devo dire che è stato un compleanno un po' scarso quest'anno, io ci sarei rimasta un po' male. Allora lei, per arrivare comunque ai canonici dieci minuti e superarli ovviamente, riparte un'altra volta con la descrizione di Stanello che ha disegnato Davide. Cioè, ma che ha disegnato, ha fatto un cuore. Boh, se lui ha il copyright per quanto riguarda i cuori. Niente, cosa dire, sono rimasta un po' delusa, ma aspettavo un po' di più. Anche perché lei nei giorni normali così fa più acquisti di questi, figuriamoci per il compleanno. Mi aspettavo una carrellata di regali col botto. E invece la nostra Chiara ci sorprende sempre. Aspettiamo allora il prossimo video, quello in cui mostrerà l'ordine di Bonprix, magari ci rifacciamo su quello. Ovviamente il suo video è finito e come sapete bene, finisce il video di Chiara e finisce anche il mio. Io sempre vi ringrazio per l'attenzione che mi prestate e che siete sempre più numerosi a seguirmi. Ora voi direte, ma che stia fa? Sto a tirarla per le lunghe per arrivare ai dieci minuti canonici. Sì, mi ha contagiato la nostra Chiara. Quindi finché non saranno dieci minuti canonici di video, non vi potrò salutare. Sopportatemi. Vi mando un bacio grande. Non è vero, scherzavo. Possono essere anche sotto i dieci minuti i miei video. Non è che cambia tanto. Vi mando un bacio grande a tutti. Ci sentiamo, ci vediamo, ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Gossip.